Nato a Macerata il 5 giugno 1894, Tucci si appassiona sin da giovane alle lingue e alle civiltà orientali. Quando parte per l'India, nel 1925, è segretario della Biblioteca della Camera. In India, Tucci, oltre ad insegnare nelle università, svolge un'intensa attività scientifica. Conosce gli ambienti intellettuali e comincia a pianificare la sua prima spedizione in Tibet. Inizia così la sua nuova vita di esploratore sul campo, di civiltà come quella tibetana e quella nepalese, allora in gran parte sconosciute. 1930. Tucci viene nominato da Giovanni Gentile, che ne è presidente, membro dell'Accademia d'Italia. Dopo cinque anni trascorsi in India e due spedizioni in Tibet, Giuseppe Tucci torna in Italia. È il 1931, un anno cruciale per i rapporti tra l'Italia fascista e l'Oriente. Gentile, il più grande filosofo.